Questo libro è un diario di viaggio scritto da Pino Cornacchia al ritorno da una camminata, così la definiva con l'usuale understatement, da Chieti a Roma, lungo il tracciato dell'antica Tiburtina Valeria. Pino Cornacchia era un uomo di ingegno versatile, capace di volgere in diverse direzioni la mente e, come si diceva, i piedi. Affrontava ogni cammino, intellettuale o fisico che fosse, con impegno, serietà, spirito di servizio e una robusta dose di autoeronia. All'attività pubblica, che da economista agrario lo aveva portato a ricoprire prestigiosi incarichi nella Confederazione Italiana Agricoltori, facendoli percorrere in lungo e in largo l'Italia e l'Europa, affiancava più riposte e inopinate attività. Itinerari biblici, con la stesura di un dotto e partecipato commento al libro della Genesi. Incursioni nei territori della musica pop, con uno studio sui riferimenti storici, le fonti e le allusioni letterarie del testo dilaniano di Murder Most Fall. Una route celestiniana particolarmente impegnativa, organizzata in modo impeccabile per alcuni attempatissimi amici romani, tutti rientrati indenni nella capitale. Conclusa l'esperienza celestiniana, Pino Cornacchia cominciò a progettare un cammino che dall'Abruzzo raggiungesse Roma sull'antica strada consolare Tiburtina Valeria. Alla scelta di questo itinerario erano sottese diverse motivazioni. La possibilità di attraversare territori divenuti eccentrici rispetto agli odierni collegamenti tra l'Abruzzo e il Lazio, l'Alta Valle dell'Aterno, Forca Caruso, Colle Bove, per citarne alcuni. L'opportunità di passare in rassegna i diversi paesaggi agricoli delle aree poste lungo la Tiburtina e di esaminarne le emergenze archeologiche e artistiche, il desiderio di riproporre a Rebourg il percorso della colonizzazione romana e di emulare i pellegrini teatini recatisi a Roma per l'anno santo del 1650. Studiato il percorso nel quale l'individuazione di alcuni brevi tratti della Tiburtina risultava e risulta necessariamente ipotetica, Pino organizza il viaggio definendone le tappe e i relativi luoghi di sosta. Il cammino ebbe inizio in una radiosa giornata di aprile, dal Museo archeologico di Chieti. Il numero dei partecipanti variava di tappa in tappa in un continuo scambio di testimone. Solo Pino, che nel suo diario registra con l'accuratezza di un capitano i diversi avvicendamenti, percorse tutte le tappe del viaggio, che vide impegnati con lui Elena Domenicucci, Fabrizio Domenicucci, Giacomo Domenicucci, Giulia Ferrante, Grazia Panara e Pompeo Volpe. Come già detto, di questo viaggio Pino Cornacchia scrisse un resoconto, che ora viene fedelmente riprodotto in forma di libro, nel testo e nell'apparato fotografico realizzato dall'autore lungo il percorso. Queste foto, pur non rispettando l'alto standard qualitativo che contraddistingue le edizioni Menabò, presentano nella loro genuinità un valore documentario, che l'editore ha accettato opportunamente di conservare. Questo libro non vuole essere una guida turistica per percorsi alternativi, pur possedendone alcune peculiari caratteristiche, individuazione di un itinerario, informazioni sui tempi di percorrenza delle varie tappe, dati paesistici e storico-artistici. Pino Cornacchia, certo, non l'aveva concepita come tale, ma come un reportage, questo il titolo da lui scelto per il suo diario, da condividere innanzitutto con i suoi compagni di viaggio. Un reportage che, se non è assimilabile a un Bedecker patinato per camminatori affetti da horror vacui informativo, è ricco di dati, riflessioni e di uno sguardo particolare sul paesaggio e sulla storia che di rado si rintracciano nelle migliori guide turistiche. Ed è dunque non soltanto la Pietas ad aver sollecitato la famiglia e gli amici a pubblicare, dopo la scomparsa prematura dell'autore, questo libro, ma il suo valore intrinseco. E che questo reportage non sia stato dato alle stampe quando Pino era ancora tra noi, è motivo di rimpianto, che oggi viene in parte attenuato. Grazie.